quindici ricordo che lei mi ha guardato in faccia con uno sguardo terribilmente fisso ma senza muoversi da dove era e senza neppure mutare di posizione ho vinto duecentomila franchi ho esclamato tirando fuori di tasca l'ultimo rotolo l'enorme mucchio di banconote e di rotoli di monete occupava tutto il tavolo e io non riuscivo quasi a distoglierne gli occhi in certi istanti arrivavo addirittura a dimenticarmi completamente di polina ora mi mettevo a disporre in ordine i mucchi di banconote raggruppandole insieme ora mucchiavo tutto l'oro insieme ora invece piantavo lì tutto e mi mettevo a camminare in fretta su e giù per la stanza fantasticando poi a un tratto mi avvicinavo di nuovo al tavolo e mi rimettevo a contare il denaro a un tratto come tornando in me mi sono precipitato alla porta e l'ho chiusa in fretta dando tre giri di chiave quindi mi sono fermato sopra pensiero davanti alla mia valigetta forse dovrei metterlo in valigia fino a domattina ho chiesto a un tratto rivolto a polina e improvvisamente mi sono ricordato di lei polina se ne stava sempre seduta immobile allo stesso posto ma seguiva attentamente ogni mia mossa il suo viso aveva una strana espressione un'espressione che non mi piaceva affatto sono certo di non sbagliarmi se dico che in essa si leggeva l'odio mi sono avvicinato in fretta polina ecco 25.000 fiorini e cioè 50.000 franchi o anche di più li prenda e domani glieli sbatta in faccia lei non mi ha risposto se vuole glieli porterò io stesso domattina va bene a un tratto polina è scoppiata a ridere e ha riso a lungo io la guardavo triste e meravigliato quel riso ricordava troppo quelle sue risate ironiche di poco prima le risate con cui essa accoglieva tanto spesso le mie appassionate dichiarazioni finalmente ha smesso di ridere e si è accigliata gettandomi delle occhiate severe di traverso non prenderò il suo denaro ha dichiarato poi in un tono sprezzante come che vuol dire questo ho gridato io polina ma perché io non prendo denaro per niente ma io glielo offro come amico le offro la vita lei mi ha fissato con un lungo sguardo scrutatore come se volesse passarmi da parte a parte lei paga troppo caro ha detto poi sogghignando l'amante di de griot non vale 50.000 franchi ma polina come può parlare così con me ho gridato io in tono di rimprovero io non sono mica de griot ma io la odio sì 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 io non la amo più di de griot ha esclamato lei con un lampo improvviso negli occhi a un tratto si è coperta il volto con le mani ed è stata colta da un attacco isterico io mi sono precipitato verso di lei ho capito che doveva esserle successo qualcosa durante la mia assenza sembrava completamente fuori di sé comprami vuoi vuoi per 50.000 franchi come de griot le sfuggiva di bocca tra singhiozzi convulsi io mi sono precipitato ad abbracciarla a baciarle le mani i piedi e le sono caduto in ginocchio davanti poi l'attacco è passato lei mi ha appoggiato le mani sulle spalle guardandomi fissamente in viso come se volesse leggere qualcosa nei miei occhi mi ascoltava ma evidentemente non sentiva nulla di quel che le dicevo sul suo volto era apparsa un'espressione preoccupata e pensierosa io temevo per lei avevo la netta impressione che stesse per perdere la ragione ora cominciava improvvisamente ad attirarmi silenziosamente a sé mentre un sorriso fiducioso già si affacciava sulle sue labbra ora invece a un tratto mi respingeva e ricominciava a scrutarmi attentamente con uno sguardo improvvisamente incupito a un tratto mi ha gettato le braccia al collo ma è vero che tu mi ami mi ami davvero ha preso a dire è vero che tu tu volevi batterti per me col barone e improvvisamente si è messa a ridere come se si fosse a un tratto ricordata di qualcosa di comico e di caro allo stesso tempo piangeva e rideva insieme e io cosa potevo fare ero io stesso come in delirio ricordo che a un certo punto lei ha cominciato a parlare di qualcosa ma io non riuscivo a capire quasi nulla di quello che diceva era una specie di delirante balbettio come se volesse raccontarmi in fretta qualcosa un delirio a tratti interrotto dalle più allegre risate ma era proprio quel riso che cominciava a spaventarmi sì tu sei così caro così caro ripeteva tu solo mi sei fedele e di nuovo mi poneva le mani sulle spalle di nuovo mi frugava negli occhi e continuava a ripetere sì tu mi ami mi mi ami è vero che mi amerai io non le distoglievo gli occhi di dosso non lo avevo ancora mai vista in quegli accessi di amore di tenerezza naturalmente è vero che lei era in delirio ma notando il mio sguardo appassionato polina improvvisamente cominciato a sorridere furbescamente e di punto in bianco si è messa a parlare di mister astley del resto lei tornava continuamente a parlare di mister astley specialmente quando come poco prima si sforzava di raccontarmi qualcosa ma che cosa precisamente volesse dirmi non riuscivo proprio a capirlo a momenti sembrava quasi che ridesse di lui ripeteva continuamente che lui stava aspettando che certamente adesso stava aspettando lì sotto la finestra sì sì sotto la finestra insisteva su aprila e guarda guarda lui è qui è certo qui mi spingeva lei stessa verso la finestra ma non appena io facevo il gesto di andarci davvero lei scoppiava in una risata e così io le restavo accanto e lei mi gettava le braccia al collo ce ne andremo da qui vero che domani ce ne andremo mi chiedeva un tratto come inquieta per qualche idea improvvisa beh e qui restava sopra pensiero beh potremmo raggiungere la nonna cosa ne pensi credo che potremmo raggiungerla a berlino cosa credi che ci dirà quando la raggiungeremo e lei ci vedrà tutte e due e mister astley beh quello non si butterà certo dallo slangenberg che ne dici e qui si è messa a ridere sta a sentire sai dove vuole andare lui l'estate prossima vuole recarsi al polo nord per compiervi delle ricerche scientifiche e mi ha invitato ad andare con lui lui dice che noi altri russi senza gli europei non sappiamo niente e non siamo capaci di far niente ma anche lui è molto buono sai lui il generale lo scusa dice che blanche la passione bene non so non so ha aggiunto a un tratto come se avesse perduto il filo del discorso poveracci anche loro come mi dispiace per loro e anche per la nonna beh dimmi un po e tu davvero vorresti uccidere de griot possibile possibile che tu abbia pensato veramente di ucciderlo che sciocco che sei davvero ti sei potuto immaginare che io ti avrei mandato a batterti con de griot ma se tu non avresti ucciso neanche il barone ha aggiunto a un tratto mettendosi a ridere come eri buffo quella volta col barone io vi osservavo tutti e due dalla panchina e vedevo bene che non avevi nessuna voglia di andarci quando ti ho mandato da lui quanto riso quella volta quanto riso ha concluso scoppiando a ridere e a un tratto ha cominciato di nuovo a baciarmi ad abbarciarmi accostando teneramente appassionatamente il suo viso al mio io ormai non sentivo e non pensavo più a nulla la testa ha cominciato a girarmi penso che saranno state circa le sette del mattino quando sono tornato in me il sole illuminava la stanza polina mi sedeva accanto e si guardava attorno con un'espressione strana come se stesse appena uscendo da un incubo e cercasse di raccogliere i ricordi di quel che era stato anche lei si era appena svegliata e fissava ostinatamente il tavolo e il denaro mi sentivo la testa pesante e mi doleva ho fatto per prendere polina per mano ma lei a un tratto mi ha respinto ed è saltata su dal divano la giornata si presentava nuvolosa prima dell'alba aveva piovuto polina è andata alla finestra la aperta si esporta con il capo e con il busto puntellandosi con i gomiti sullo stipite della finestra ed è rimasta così due o tre minuti senza voltarsi verso di me senza ascoltare quel che le dicevo a un tratto mi sono chiesto con terrore cosa succederà adesso e come finirà questa faccenda finalmente polina si è staccata dalla finestra si è accostata al tavolo e guardandomi con un'espressione di odio sconfinato e con le labbra che le tremavano dall'ira mi ha detto beh e allora dammi li miei 50.000 franchi polina di nuovo di nuovo ho cominciato a dire in tono di rimprovero o forse ci hai ripensato ora magari ti rincresce per i soldi i 25.000 fiorini che avevo contato già la sera prima stavano ancora lì sul tavolo li ho presi e glieli ho dati dunque adesso sono miei è vero è vero che sono miei ora mi ha chiesto lei con rabbia tenendo i denari in mano ma sono sempre stati tuoi le ho risposto e allora eccoteli i tuoi 50.000 franchi e così dicendo me li ha sbattuti violentemente in faccia il grosso pacco di denaro mi ha colpito dolorosamente il viso e si è sparso per tutta la stanza ci ho fatto polina è uscita di corsa naturalmente so bene che in quel momento lei era fuori di sé e tuttavia io non so spiegarmi quella sua momentanea follia è vero che essa è malata ancora oggi che pure è passato un mese e comunque qual è stata la causa di quel suo stato e soprattutto di quel suo scatto l'orgoglio ferito la disperazione per quel che aveva fatto e cioè per essersi decisa a venire da me non le era forse sembrato che io andassi troppo fiero della fortuna che avevo avuto e che in realtà proprio come de griot volessi soltanto disfarmi di lei regalando le 50.000 franchi ma questo non era vero me lo dice la mia coscienza io penso che la colpa sia in parte da attribuirsi alla sua vanità è stata la vanità a suggerirle di non prestarmi fiducia e di offendermi sebbene tutto ciò probabilmente neanche lei lo vedesse chiaramente in tal caso naturalmente io avrei pagato anche per le colpe di de griot pur non avendo in realtà una gran colpa è vero che era stato soltanto un delirio è vero che lei era in delirio e che io pur sapendolo non avevo tenuto conto di questa circostanza e che forse lei ora non poteva perdonarmi proprio questo sì questo era possibile adesso ma allora allora certo la sua malattia e il suo delirio non potevano essere stati così forti da impedirle di rendersi conto di quel che faceva quando era venuta da me con la lettera di de griot quindi lei sapeva quel che faceva ho afferrato in fretta tutte le banconote e il mio mucchio d'oro l'ho buttato alla meglio sul letto ci ho steso sopra la coperta e sono uscito dalla stanza una decina di minuti dopo polina ero convinto che fosse corsa a casa e avevo intenzione di entrare di soppiatto nella loro anticamera e chiedere alla bambinaia come stava la signorina quale non è stata la mia meraviglia quando incontrando la bambinaia per le scale ho saputo da lei che polina non era ancora tornata a casa e che la bambinaia veniva appunto da me per chiedermi di lei è uscita poco fa dalla mia stanza le ho risposto saranno appena dieci minuti dove diavolo può essersi cacciata la bambinaia mi ha guardato con aria di rimprovero ma intanto era nata tutta una storia che aveva già fatto il giro dell'albergo giù in portineria e alla direzione si sussurrava che la fräulein alle sei del mattino era uscita di corsa dall'albergo sotto la pioggia ed era scappata verso l'hotel d'angleterre dalle loro parole soprattutto dalle loro allusioni ho capito che essi sapevano già che polina aveva passato tutta la notte nella mia stanza del resto ormai correvano una quantità di storie su tutta la famiglia del generale era ormai noto che il generale il giorno prima aveva perso la testa e se ne andava in giro piangendo per tutto l'albergo si raccontava inoltre che la vecchia signora sopraggiunta fosse sua madre che era arrivata apposta fin dalla russia per proibire al figlio di sposare mademoiselle de cominge e per privarlo dell'eredità in caso di disubbidienza e siccome lui effettivamente non le aveva obbedito la contessa aveva a bella posta perduto tutti i suoi denari alla roulette sotto gli occhi del figlio in modo che a lui non restasse proprio niente diese russen ripeteva il maître in tono di sdegno scuotendo il capo gli altri lì intorno ridevano il maître preparava il conto la notizia della mia vincita si era già diffusa è stato carl il lacchè di corridoio a farmi per primo le congratulazioni ma io pensavo a ben altro e mi sono precipitato all'hotel d'angleterre era ancora presto e mister astley non riceveva nessuno tuttavia sentendo che io chiedevo di lui è uscito a incontrarmi in corridoio e mi si è arrestato davanti fissando in silenzio su di me il suo sguardo di piombo in attesa di quel che avrei detto io chiesto subito di polina è malata ha risposto mister astley continuando a fissarmi come prima e senza staccarmi gli occhi di dosso dunque si trova effettivamente da lei o se si trova da me così lei avrebbe l'intenzione di tenerla con sé o sì ho proprio l'intenzione mister astley ma questo fa nascere uno scandalo e ciò non è possibile per giunta lei è malata possibile che lei non se ne sia accorto o sì me ne sono accorto e le ho già detto che è malata se non fosse stata malata certo non avrebbe passato la notte in camera sua così lei sa anche questo o sì lo so lei ieri stava venendo qui e io l'avrei condotta da una mia parente ma siccome era malata si è sbagliata ed è venuta da lei ma guarda un po beh non mi resta che congratularmi con lei mister astley a proposito mi viene un'idea lei non avrà mica aspettato tutta la notte sotto le nostre finestre per tutta la notte miss polina insistito perché aprissi la finestra e guardassi se lei non fosse lì sotto ad aspettare e ne rideva come una matta davvero no io non aspettavo sotto la finestra bensì camminavo su e giù per il corridoio ma bisogna curarla mister astley o sì ho già chiamato il dottore e se morirà sarà lei a rendermi conto della sua morte sono rimasto di stucco mi scusi mister astley ma cosa vuol dire con ciò è vero che lei ieri ha vinto 200.000 talleri no solo 100.000 fiorini ecco lo vede e allora parta stamattina stessa per parigi e perché tutti i russi quando hanno del denaro vanno a parigi ha spiegato mister astley con il tono di chi stia leggendo una frase da un libro e che ci farei adesso d'estate a parigi io la amo mister astley e anche lei lo sa davvero e io invece sono convinto di no del resto restando qui lei perderà certamente tutto e allora non avrà più il modo di andare a parigi beh addio sono assolutamente convinto che lei partirà oggi stesso per parigi sta bene addio solo che io a parigi non ci andrò pensi un po mister astley cosa succederà adesso da noi insomma il generale adesso questa faccenda di mispolina questa teoria farà il giro di tutta la città sì lo saprà tutta la città quanto al generale penso che non se ne preoccupi troppo altro da pensare per giunta mispolina ha il pieno diritto di abitare dove più le piace di quella famiglia poi si può tranquillamente dire che essa ormai non esiste più mentre me ne andavo ridevo tra me della strana sicurezza di quell'inglese a proposito del mio preteso viaggio a parigi e per giunta vorrebbe uccidermi in duello se mademoiselle polina morisse pensavo fra me ecco un'altra complicazione giuro che mi dispiaceva per polina ma strano a dirsi dal momento stesso in cui il giorno prima mi ero accostato al tavolo da gioco e avevo cominciato a rastrellare denaro a manciate da quel momento il mio amore si era come ritirato in secondo piano questo posso dirlo oggi ma in quel momento ancora non lo vedevo chiaramente possibile che fossi veramente un giocatore possibile che in realtà amassi polina di un amore così strano no io la amo ancora oggi il dio mi è testimone e anche allora mentre uscivo dall'hotel d'ongleterre e me ne tornavo a casa soffrivo sinceramente mi accusavo ma proprio allora mi è capitata una storia straordinariamente sciocca e strana mi affrettavo a recarmi dal generale ed era ormai quasi arrivato al loro appartamento quando a un tratto si è aperta una porta e qualcuno mi ha chiamato era madame veve cominci che mi chiamava per incarico di mademoiselle blanche così sono entrato nell'appartamento di mademoiselle blanche avevano un piccolo appartamento di due sole stanze si sentivano le risate i gridolini di mademoiselle blanche provenienti dalla camera da letto la signorina si stava appunto alzando ah c'è lui viens donc beta è vero che tu as gagné une montagne d'or et d'argent j'aimerais mieux là si ho vinto ho risposto ridendo quanto centomila fiorini bibi com tu e bete su entra da qui non sento niente nous ferons bonbons n'est pas sono entrato da lei blanche se ne stava a letto sotto una coperta di raso rosa da cui emergevano le sue splendide spalle sane abbronzate quali può capitare di vederne solo in sogno appena velate da una camicia di batista adorna di candi di merletti che metteva meravigliosamente in risalto la sua pelle abbronzata mon fils a tout du coeur ha esclamato blanche scorgendomi e scoppiando a ridere rideva sempre con molta allegria e talvolta perfino con spontaneità tout autre cominciavo a rispondere io parafrasando corneille ecco vedi vois tu ha cominciato a cicalare blanche interrompendomi per prima cosa trovami le calze e aiutami a infilarle in secondo luogo si tu n'es pas trop bête je te prende a pari sai io parto adesso adesso tra mezz'ora effettivamente tutto era pronto le valigie e tutto il resto erano lì già preparate il caffè era stato servito da un pezzo e bian se vuoi tu verrà pari di donk che se che se can an ucitel tu eté bian bet can tu eté ucitel e allora dove sono le mie calze su infilamele ed effettivamente blanche ha tirato dal letto un piedino meraviglioso abbronzato piccolo non deformato come lo sono invece quasi tutti quei piedini che sembrano così graziosi quando sono calzati mi sono messo a ridere e ho cominciato a infilare su quel piedino una calza di seta intanto mademoiselle blanche se ne stava seduta sul letto e ci calava e bian che ferai tu se je te prende avec per prima cosa je veux centquante mille franc tu me li darei a francoforte nous allons a pari là vivremo insieme e je te ferai voir des etoiles en plein jour vedrai delle donne quali non l'hai mai viste sta a sentire aspetta così io ti dovrei dare cinquantamila franchi e a me cosa resterebbe e son centquante mille franc te li sei dimenticati per giunta io acconsento a vivere nel tuo appartamento per un mese due che se je naturalmente noi due insieme scialacqueremo in due mesi questi centocinquantamila franchi lo vedi je suis bon enfant e te lo dico prima me tu verrà des etoiles come tutto in due mesi come e questo ti spaventa ville sclave ma non lo sai tu che un solo mese di una tale esistenza vale più di tutta intera la tua vita un mese e apre quel momento le stavo infilando l'altra calza ma non avevo resistito e le avevo baciato il piedino lei me l'ha strappato di mano e ha cominciato a picchiarmi sul viso con la punta del piede alla fine mi ha espulso definitivamente dalla stanza io parto tra un quarto d'ora mi ha gridato dietro tornando in camera mia mi sentivo ormai come preso da un vortice in fin dei conti non era mica colpa mia se mademoiselle paulina mi aveva sbattuto un pacco di denaro in faccia e se ancora il giorno prima mi aveva preferito mister astley alcune banconote erano ancora sparse per terra qua e là e mi sono chinato a raccoglierle in quel momento si è aperta la porta ed è comparso il metr in persona che fino al giorno prima non si degnava nemmeno di guardarmi che veniva a invitarmi a trasferirmi di sotto in uno splendido appartamento dove fino a poco prima aveva alloggiato il conte vi ci ho pensato un po su il conto ho gridato poi parto immediatamente tra dieci minuti se bisogna andare a parigi andiamoci ho pensato si vede che era scritto ed effettivamente un quarto d'ora dopo ce ne stavamo seduti tutti e tre in uno scompartimento riservato io mademoiselle blanche e madame veve cominge mademoiselle blanche guardandomi rideva fino alle lacrime e la veve cominge le faceva compagnia quanto a me non posso dire che fossi allegro la mia vita si spezzava in due ma dal giorno prima mi ero ormai abituato a puntare tutto su una carta può darsi che fosse effettivamente vero che non avevo retto a tutto quel denaro e avevo perso la bussola peut-être je ne demandais pas mieux mi sembrava che per il momento ma solo per il momento cambiasse lo scenario ma tra un mese io sarò qui e allora allora noi due ci misureremo ancora mister astley no anche adesso mi ricordo che mi sentivo terribilmente triste anche se ridevo sgangheratamente con quella scioccarella di blanche ma cosa ti ha preso come sei sciocco come sei sciocco ha gridato a un gripsi e sciocco come sei sciocco come sei già sciocchio ha ingrandi tutti e assicurabile allque ma cosa ti ha detto v eighteen circa tu hai sale mi